Buongiorno e benvenuti in un nuovo vlog, sì, mi sono svegliata da poco, sono le 9 e mezza e sto morendo di fame, oggi non sarà un vlog lunghissimo, lo spero, ho fatto principalmente questo vlog perché oggi pomeriggio faremo i cornetti, perché domani devo girare una nuova challenge, è troppo bella e quindi non vi spoilerò niente perché quando voi stare vedendo questo video, vi starò facendo la challenge, quindi domani mattina già vi dico che per colazione e cornetti, oggi è il 5 maggio e stamattina sinceramente volevo fare qualcosa di più leggero, però visto che ho pensato che alle 11 o vi di lezione, a mezzogiorno vi di lezione, poi dopo mi voglio allenare e poi fare il pranzo, ho deciso di mangiarmi qualcosa di comunque sostanzioso, infatti stamattina faccio, sì penso sì, faccio le crepe, così metto di meno farina più al bubo e mi faccio una crepe molto più proteica rispetto comunque al pancake che sapete che se la consistenza non è densa non viene bene, quindi adesso mi metto a fare le crepe, vi risparmio il procedimento, farò 60 grammi di farina d'avena, 200 di albume, 100 di latte e faccio le crepe, quindi vi faccio vedere direttamente alla fine, è inutile che ve le faccio rivedere perché nei due vlog abbiamo fatto sia pancake che le crepe, quindi adesso vado a cucinare, a prepararmi la colazione, che sto morendo di fame e noi ci vediamo dopo! Ciao! 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 Io ho finito di fare colazione, ragazzi sono quasi le 11, cioè le 10 e mezza, mi scoccio, devo fare le due video lezioni, una alle 11, una a mezzogiorno, che palle raga, perché comunque finivo quella delle 11 e a me non mi andavo ad allenare, invece no, ma ok, quindi adesso non so, mi cambio giusto la maglietta, non mi volevo neanche cambiare, ma si devono fatti vedere da posto in pigiama, anche se non mi voglio far vedere oggi, quindi adesso mi vado un po' a sistemare, ne ho un resto in pigiama, non lo so come più mi va a dicere la testa, perché comunque poi volevo fare che dopo la video lezione mi lavavo, mi preparavo, mi sistemavo e mi andavo ad allenare, ma vediamo un po' come vanno le cose, quindi niente ragazzi, oggi vedete anche dei pasti molto semplici, a parte che non è un votittine dei, se non devo preparare cose, elaborare diverse, poi nei prossimi votittine dei se ne parla, comunque oggi sarò comunque bassa, mi allenerò, camminerò, perché comunque domani non sarò tanto alto con le quelle calorie, però sicuramente sfererò di mille qualcosa, poi specialmente domani che manderò diversamente, mi sto dando tantissimi spoiler ragazzi, comunque vi dico anche che è una challenge che ho fatto alle 24 ore in estate, e mi andava troppo di farla, poi in tantissime avete chiesto facci una challenge, facci una challenge, e quindi ho deciso un po' di arraggiarmi con quello che avevo in casa e di fare il video challenge, e quindi niente ragazzi, adesso finisco un altro po' di giocare ovviamente il mio solito gioco, e poi valuterò se cambiarlo nemmeno la maglietta momentanea e mi metto una felpa sopra, e poi dopo mi cambio e mi vado ad allenare. Ho appena finito di fare video lezione, sto nera, nera, sto come la pazza, ma ve lo giuro raga, è assurdo, io non vedo l'ora che, come vi ho detto su Instagram, che questo cavolo di esame di maturità finisce, tutta questa tragedia finisce, perché non se ne può più. Io sono a nonna maturità e spero che non si fa, perché la disorganizzazione che c'è è unica, veramente non si sa quello che dobbiamo fare, ogni giorno escono puntini nuovi, un macello, un macello, infatti in questi giorni mi devo preparare, perché io ho già iniziato a fare una mia bozza, ma si sono cambiate un po' le carte, un macello raga, chissà con me, in questo momento a fare, che deve fare la maturità, sa quello che stiamo vivendo, sa la brutta situazione in cui stiamo vivendo, già la situazione è tragica, ma chi deve fare la maturità, in questo momento mi può capire, non mi dilungo più di tanto. Luna, sì, sto un po' nervosa, penso che si nota, infatti adesso mi vado ad allenare, ne ho bisogno, io sto sudando, mi vado un po' ad allenare, Luna, e poi oggi pomeriggio ci rilassiamo, perché io, ieri ho fatto tutti i compiti che dovevo fare, quindi adesso voglio prendere veramente un giorno, oggi di relax, tra virgolette, non voglio pensare a niente, voglio proprio staccare il cervello e poi da domani si riparte, perché è veramente assurdo, è assurdo. Niente raga, adesso mi cambio un attimo, mi vado ad allenare, mi vado a dare una rinfrescata, mi tranquillizzo, mi metto le cuffiette, entro nel mio mondo e noi ci vediamo dopo che cuciniamo e poi prepariamo i cornetti. La cosa più bella della giornata è preparare i cornetti, ovviamente con la ricetta di Benedetta, infatti seguirò proprio lei passo passo ogni cosa che fa e ovviamente vi aggiorno anche a voi. modalità fantasmino, cioè la maglietta bianca e il reggiseno nero, troppo. Comunque sto proprio in modalità fantasmino, infatti scusatemi, cioè ma io ho delle occhiaie assurdo, si vede che la notte non sto dormendo più bene. Infatti adesso ho finito, sono le due e mezza e raga io sto morendo di fame. allenamento è andato molto bene, è la verità, però adesso mi devo sedere a tavola e devo mangiare. Mi arrivano messaggi del professore e devo mangiare, quindi niente, adesso vi faccio vedere, non farò niente di particolare, mangerò gallette, avocado e petto di pollo, quindi preparo il tutto e vi faccio vedere direttamente il piatto finito. Oggi non parlerò molto, però l'unica cosa che devo fare, mi devo andare a colorire stocchiaie, così nelle prossime clip se mi riprendo non vi spavento, quindi e poi vabbè oggi sapete già quello che andiamo a fare, almeno già siamo nel pomeriggio, poi non farò niente di particolare, infatti non farò neanche i compiti oggi perché voglio proprio prendermi una giornata, relax veramente, cioè tra virgolette. Quindi entra gà, io adesso vado di là, mi vado a mettere un po' di correttore, mi vado a dare una rinfrescata, cucino e vi faccio vedere e poi dopo prepariamo i guarnetti. Qua, allora vabbè qui c'è l'avocado, si lo so è ancora un po' acerbo, non è proprio maturo, doveva stare tipo altri 2-3 giorni, però sinceramente ieri lo volevo, mi piace anche così a me, con le gallette, quindi ho deciso comunque di smaltirlo perché comunque l'ho aperto già ieri, domani non lo utilizzo perché sto in preparazione challenge e nel frattempo mi sto vedendo il video che è partito proprio adesso di Giovanni Fois, mamma mia, The Rock che è questo qui, è l'ultimo proprio il cheat day di The Rock, 15.000 calorie, adoro, io vabbè lui lo adoro, mi piace tantissimo come persona e anche come bravissima ad intrattenere il pubblico, troppo io lo adoro, infatti io non mi perdo nessuno dei suoi video, cioè mi vedo proprio tutti i video, proprio perché mi piace come persona proprio ed è molto bravo, quindi adesso nel frattempo continuo a vedere il video che l'ho appena iniziato e sto aspettando il petto di pollo e sto morendo di fame. Dire una cosa, c'è noi che facciamo queste challenge, dico noi perché anche io, non è che ci sediamo a tavola e mangiamo e basta, no, c'è anche un allenamento, c'è tanto cardio, c'è una preparazione, come adesso che so che domani andrò comunque a non fare una 15.000 calorie challenge, però comunque 4.000, 5.000 calorie domani saltano, mi sto regolando anche negli altri giorni, tipo oggi, ieri sono stata un po' più bassa di carbo perché si sa che quello che si va a consumare di più in queste challenge, in qualsiasi cosa sono sempre la quota di grassi e di carboidrati, cioè quello che voglio far capire io non è che uno si siede e mangia, basta, poi si va a dormire, no, c'è un allenamento in tutta la giornata, una preparazione, specialmente anche in queste forti challenge, perciò raga non guardate solo il video, quello che una persona vi fa vedere, perché ovviamente una persona non fa vedere tutta la giornata, non ha una videocamera piantata addosso che vi dice, che vi fa vedere come sale in tutta la giornata, oppure il pre e il dopo, voi vedete solo lo scopo del video, perciò io lo adoro lo sono io morta eccoci qui con il pranzo, petto di pollo ovviamente con curcuma, pallette, avocado e Giovanni Fois raga eccoci qua con gli ingredienti, questo è il primo step perché vado a fare, tipo lei l'ha chiamato lievitino, cioè vado a fare la prima parte per i nostri croissant, ovviamente questa qui è la ricetta che ho preso, vabbè ma anche poi ve la lascio anche giù il video se volete vedere anche questo non lo so, comunque fatta in casa da Benedetta, seguirò il suo tutorial e lei all'inizio fa tipo questa cosa con lievito, farina, acqua e miele, infatti vado a staccare anche l'acqua perché ha temperatura ambiente, allora e poi come prima cosa ovviamente una ciotola, ecco la bilancia, li metto qui, allora va a prendere 25 grammi di lievito di birra, io ho anche lo stesso panetto suo perché ho quello lì solido, eccolo qua lievito di birra, quindi vado ad aggiungerci 25 grammi ok dopo aver fatto questo step, io sto vedendo il video, vado ad aggiungere 100 ml di acqua tiepida, poi vado ad aggiungere un cucchiaio di miele, io uso questo qui dell'ocean che ovviamente il mio è denso, però ragazzi avete il microonde, vi consiglio di riscaldarlo un po', vabbè io ho l'acqua calda quindi prendo giusto un cucchiaio così, lo vado ad unire, subito dopo vado a dare, se spostiamo la bilancia, una mescolatina a tutto che adesso dopo fatto qui, vabbè dopo andiamo ad aggiungere anche la farina, lo fa lievitare per mezz'ora, per poi dopo, quando comunque è passata la mezz'ora, un'ora di lievitazione quanto volete, lo fa ad unirlo, poi va a fare il procedimento per proprio l'impasto e lo va ad unire all'impasto e così anche da evitare tante ore di lievitazione secondo me io, infatti perché dopo poi già fa lo step successivo che si prepara i cornetti, poi vedete, vado a pesare 100 grammi di farina 00, lei dice manitoba però, io uso la 00 perché non ce l'ho, però se ce l'avete usate quella, vado a pesare giusto 100 grammi e vado a tenerlo un po' per volta al nostro composto liquido ok è pronto, eccolo qua, adesso cosa faccio? lo ricopro e lo lascio riposare per mezz'ora eccoci qua comunque questo, è il nostro lievitino, anche quello di Benedetta era così non so se vedete, è uguale anche il suo, infatti ha questa consistenza un po' liquida ci tenevo a farvelo vedere, allora quindi non vi preoccupate che non deve venire denso ma la consistenza è proprio così, come primo step lei va a fare, cioè va a prendere due uva io utilizzo una planetaria, è una planetaria ma raga potete farlo liberamente a mano, cioè senza problemi adesso vado ad aggiungere 80 grammi di zucchero bianco ovviamente il tutorial vi dice anche di aggiungere un po' di scorza di arancia ma io non ce l'ho quindi non ce la metto poi vado ad aggiungere 125 ml di latte 80 grammi di burro fuso che io già ho sciolto e vado a dare la nostra prima mescolata ok in questo momento vado ad aggiungere il lievitino, lei così lo chiama ok raga adesso facciamo girare un po' lentamente adesso vado ad aggiungere la farina, lei fa 550 grammi di farina però fa metà manitoba e metà 00 noi raga lo sapete che facciamo solo 00 perché la manitoba non ce l'ho, l'ho messa qui e la aggiungiamo un po' per volta ho visto che il nostro impasto risulta ancora un po' appiccicoso vado ad aggiungerci un altro po di farina voi quando arrivate a questo step che avete finito i vostri 5 50 di farina vi regolate un po ad occhio nella sua ricetta che vi lascio è impossibile farlo quadrato perfettamente perché l'impasto comunque è doppio infatti io l'ho diviso ma non viene come fa lei strisciolina fanno facciamo un altro metodo lo stendiamo tutto poi faccio stesso da qua i cornetti perché l'unica soluzione raga altrimenti questi cornetti non li farete mai e tanto poi alla fine non lo spennello dentro ma lo spennello direttamente fuori con il tuorlo per farlo dorare o con il burro poi vi dico perché è inutile veramente se ci riuscite fatemi fatemi sapere perché o se impedita io ne cosa mi allora ragazzi qua qualcuno l'abbiamo fatto ma ragazzi sono complicatissimi cioè ve lo giuro ma io i miei dubbi ok allora dalla massa che è stata tipo sulle cinque sono da due ore allora ragazzi stendete vedete che se non viene a presa cosa stendete sempre bene mi raccomando allora nella ricetta ha fatto sette un sacco di strati ma sinceramente se facevo un sacco di strati mi vedeva doppio così e anche lo stendiamo un velo petoso un sacco di strati ma sinceri i cornetti sono pronti adesso faccio fare due ore di levitazione in forno ma voi potete anche coprirlo con la pellicola e lo fate levitare per due ore quindi ci ha acceso solo la luce buon riposo comunque ragazzi sono stati un parto cioè ragazzi sono stupendi guardate come sono cresciuti cioè io scioccata adesso vado a spennellarli c'è pure quelli brutti sono cresciuti adoro però spero che ma che crescono non si uniscono tutti vabbè allora vado a spennellare con il tuorlo e latte ok raga adesso li metto a 180 gradi per non lo so una ventina di minuti poi vedete un po ad occhio penso che 15 barra 20 minuti sicuramente comunque vi devo far vedere una cosa c'è raga pure più piccoli sono troppo belli c'è guardate quello mamma mia raga però io farò la brava oggi non lo proverò perché io li proverò direttamente domani quello anche quello piccolo lio nob sono le 8 io non tocco scivola le due e mezza quindi per dirvi se alla fine non mi sono messa neanche più il correttore mi mi sono messa a pulire la cucina mi sono messa a fare tante cose che è passato il terzo quarto piano quindi adesso mi faccio una piarrima una cosa molto veloce perché voglio mettermi proprio a letto che oggi la mi sono fermata un secondo ho fatto già più di 7000 passi un macello e infatti ho mangiato anche poco oggi ma non fa niente raga sono stata secondo me sulle mille e due proprio dal girando però mi rifaccio le mani e niente quindi adesso mi faccio una piarrima con la bresaola lo metterlo affettato però non mangio la bresaola da un sacco di tempo è fresca pure quindi mangio la bresaola con non so se dentro ci metto una sottiletta light non lo so oppure solo un po di rucola molto semplice questo vlog volge al termine e ormai mi metto puntualmente qui spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando se rifate i cornetti ovviamente la ricetta di benedetto però io sono stata al tramite ovviamente se le rifate mi raccomando taggatemi e se tutto va bene in settimana voglio fare anche la versione fitto non vi prometto niente per questa settimana ma forse la prossima ma li voglio troppo fare già ho in mente come fare e tanto ormai so anche il procedimento quindi sono un po la tecnica ecco e quindi entra che io adesso stacco qui se mi volevo andare già metto io già stavo pensando ok mi metto sul letto mi vedo una serie tv no ovviamente no perché devo editare questo video e già me l'ho dimenticata quindi adesso vado ad editare e noi ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao